salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video oggi vi presento un computer molto ma molto bello che per alcuni versi ha segnato anche parte della mia infanzia questo di qua è un Olivetti M4 434S un PC DOS con un processore 486SX2 un processore che non è uno dei migliori questo l'ammetto però comunque è anche uno dei processori che ha fatto la storia negli anni 90 questo di qui è un computer del 1993 rimesso a nuovo recentemente da me stesso ad esempio ho aggiunto un drive di floppy da 5 e un quarto è un lettore di floppy da 3 e mezzo classico nuovo perché quello che era già installato in questo computer aveva smesso di funzionare ho anche cambiato l'hard disk io ho messo un hard disk da 500 megabyte perché per qualche estremotivo pur avendo la compatibilità con gli hard disk LBA non riesce a rilevarmi gli hard disk più grossi di 500 megabyte ho provato con un hard disk da 8 gigabyte che però poi è finito nel mio project 98 ovvero il pc con windows 98 ed xp che utilizzo per ad esempio registrare i giochi per windows 95 e 98 adesso vediamo l'interno vediamo un po che cosa abbiamo dentro questo computer e poi vediamo le sue performance in gioco sono presenti due linguette di questo genere da entrambi i lati e basta tirarli in questo modo verso il fronte del computer ed ecco che la copertina scorre verso l'esterno e questo molto compatto è l'interno dell'olivetti M4 434 S possiamo vedere intanto una scheda madre a t molto piccola che riesce a riempire gran parte dello spazio del case l'altra metà invece è occupata dall'alimentatore anche esso ovviamente attivo e non a tx il lettore floppy da 5 e un quarto il lettore floppy da 3 e mezzo e sotto in questo slot di qua sotto abbiamo anche l'hard disk si può vedere qui il socket 3 e infatti il socket 3 quello che utilizza il 486 SX2 come processore come scheda audio ho montato una creative sound blaster ct 2950 che ha un problema al chip di boost dell'audio perché ogni tanto sembra quasi che il volume dell'audio sembra molto più alto di quanto dovrebbe essere infatti il mixer per questa ragione non funziona bene però comunque questa è l'unica scheda audio decente che avevo perché la CT3670 Power32 in pratica l'ho utilizzata per l'altro pc dos più potente di cui fare un video molto presto ovviamente questa è una scheda audio ISA tutti questi slot di qua sono tutti slot ISA difficile da vedersi al buio ma comunque abbiamo tre slot ISA in questo rialzo verticale e poi dietro abbiamo un altro slot ISA con l'apposita uscita qua IO dell'interfaccia IO delle schede abbiamo poi come RAM 40MB di RAM DIM penso che questo di qua si chiami RAM DIM sono due stick da 20MB quindi un totale di 40MB di RAM poi abbiamo qui uno slot per collegare dei floppy uno slot più lungo che penso serva per altre interfacce su questo lato vediamo oltre allo slot ISA disponibile anche il connettore AT dell'alimentatore notate com'è differente rispetto a quelli moderni quelli moderni sono a 24 pin se non erro mentre questi di qua sono 13 pin e sono molto più deboli inoltre il comando shutdown EMS DOS 7.03 non funziona quindi bisogna spegnerlo direttamente col pulsante in modo barbarico abbiamo poi ovviamente lo slot qua per bus per i floppy e due slot IDE per hard disk e derivati notiamo poi il lettore floppy da 5.4 non ha la cover di sopra sono tutti così questi e inoltre il connettore è al contrario rispetto a quelli rispetto a quelli dei floppy normali questi di qua usano questi connettori differenti e questo è tutto per quanto riguarda ciò che si vede subito appena aperto il computer ma le sorprese non finiscono qui con l'aiuto di un cacciavite a taglio si tira questa leva e adesso si è sbloccata la seconda parte del case quindi alzando questo si rivela l'hard disk che come ho detto prima è un hard disk da 500 megabyte in realtà ne indica soltanto sui 410 420 così nel sistema però è un hard disk da 500 megabyte come capacità scritta su carta e poi per richiuderlo basta fare così e bloccarlo di nuovo magari non con una mano sola però comunque il meccanismo è semplicissimo per quanto riguarda la chiusura del case è allo stesso modo di come si apre semplicemente al contrario è bloccandolo con la levetta per quanto riguarda gli ingressi e le uscite sul retro del computer è molto semplice abbiamo due connettori per alimentazione uno maschio e uno femmina che si utilizza per gruppi di continuità poi abbiamo due porte PS2 nessun ingresso per tastiere AT abbiamo poi una porta parallela due porte seriali e un'uscita VGA a 14 pin e questo di qua mi ha causato tantissimi problemi per poterlo collegare perché tutti i capi VGA che posseggo hanno 15 pin e quel nono pin in meno che non posso fare entrare qua perché c'è un in pratica è chiuso anzi che esserci il buchetto è chiuso mi ha costretto a dover cercare un adattatore da 14 pin a 15 pin 15 buchi da questo lato e 14 pin da questo lato per poter entrare nello slot VGA di questo computer per quanto riguarda la scheda audio è molto semplice abbiamo la porta giochi o midi poi abbiamo lo speaker out che sarebbe l'uscita jack principale per le casse la line out che sarebbe la linea in uscita solitamente si collega a questa ad esempio un altro computer come faccio io per registrare l'audio poi abbiamo il microfono ovviamente e la linea in ingresso che serve appunto per registrare cose invece da un altro computer o un altro dispositivo mp3 inoltre il bios di questo pc non rileva i lettori cd infatti inizialmente al posto del lettore floppy da 5 e un quarto avevo montato un lettore cd ma il bios si rifiutava di leggerlo di conseguenza per utilizzare i cd in questo computer c'è soltanto un modo ovvero utilizzando uno di questi lettori cd esterni via porta parallela un problema unico di questo però è che non è possibile fare il boot dal cd perché la porta parallela funziona all'interno del sistema dos in pratica c'è un driver che utilizzo che si chiama aspi cd che consente al sistema dos di rilevare il lettore cd esterno dalla porta parallela questo però di conseguenza comporta che non è possibile fare il boot dal cd quindi non è possibile installare ad esempio windows 95 oppure il free dos direttamente da questo computer bisogna togliere l'hard disk installarlo da un altro computer e poi mettere l'hard disk con il sistema già dentro un altro punto negativo per questi cd esterni paralleli è che non è possibile collegarli all'ingresso del cd audio della scheda audio di conseguenza non è possibile avere ad esempio una musica cd da giochi come rayman oppure ad esempio eredicator shadow warrior eccetera di conseguenza questo computer non avrà mai giochi con la musica cd anche se ci sono questi due queste due uscite rca non è possibile collegarli ovviamente all'ingresso cd audio della scheda audio per ogni motivo o beh qui non ho molto spazio quindi penso che lo andrò a sistemare anche sopra del project in anti height siamo all'alimentazione di questo ok perfetto colleghiamo tastiera e mouse facendo attenzione a non sbagliare gli slot perfetto il mega adattatore vga da 14 pin a 15 pin perché purtroppo non si può fare altrimenti lo colleghiamo alla scheda di cattura e se vogliamo colleghiamo anche il nostro elettore cd parallelo e siamo pronti per testare questo bellissimo 486 ok ed eccoci qui come si può vedere questo è il boot molto veloce abbiamo 40 megabatt di ram la tastiera per qualche strano motivo non funziona a perfetto ok si sta riavviando da solo a questo punto mi fa scegliere quale sistema avviare perché io ho installato prima ms dos 7.10 però poi ho avuto diversi problemi di compatibilità con windows 3.1 eccetera e di conseguenza ho dovuto installare dr dos 7.03 al di sopra adesso quindi ogni volta che accendo il pc ho questa selezione di sistema io ovviamente premo F2 per avviare dr dos o dr dos come lo si vuol chiamare e poi il boot continua tranquillamente rileva la scheda audio creative sound blaster 16 plug and play diverse altre cose tra cui anche il driver del mouse che si chiama cute mouse versione 1.9.1 quando mi chiede di inserire la password premo semplicemente invio perché non ne ho scritta alcuna ed eccoci qui siamo pronti adesso per utilizzare il nostro pc ad esempio vado nella cartella giochi poi apro il menu è un programma che ho creato io stesso per qualche strano motivo c'è un bug di carattere tra il mio nickname l'anno 2016 ma lo risolverò poi dopo e adesso possiamo provare qualcuno di questi giochi già installati che ho installato io prima di fare questo video in questi giorni ad esempio andando nella directory di apogee abbiamo alcuni giochi come monster bash proviamo ad esempio questo e abbiamo il primo episodio oh dimenticavo questo problema con drdos alcuni programmi batch scritti in ms dos 7.10 si diciamo alterano e di conseguenza alcuni comandi alcune variabili smettono di funzionare ma questo problema ci vado manualmente io e risolviamo tutto eccoci qua la scheda audio funziona si sente la musica il monster bash però c'è un piccolo problema con gli effetti sonori infatti la musica funziona però non funzionano gli effetti sonori in pratica mi da questo errore quando provo ad abilitarli non so per quale motivo se qualcuno ha qualche idea scrivetelo nei commenti e dare un'occhiata comunque sia attivo il pc speaker per quanto esso possa fare schifo è comunque qualcosa ecco si può vedere funziona alla perfezione nessuno scatto nessun rallentamento la scheda di cattura un pochettino droppa qualche frame ma in realtà il computer va alla perfezione questi di qua sono sicuramente almeno un 30 fps perfetti e chi se ne frega del teschio danneggiamoci pure questo problema della scheda audio comunque è sorto con Dr. DOS perchè finchè avevo MS-DOS 7.10 in Monster Bash funzionava sia la musica come infatti essa continua a funzionare che anche gli effetti sonori evidentemente c'è qualche problema di risorse ok come prossimo gioco proverò invece un altro gioco dell'Apogee ovvero il classico Duke Nukem 2 questo di qua invece funziona perfettamente effetti sonori e musica sugli effetti sonori nella cutscene iniziale e eccoli qua funziona perfettamente anche questo è un gioco che funziona alla perfezione senza nessun tipo di rallentamento anche il caricamento è velocissimo non droppa nessun frame magari la scheda di cattura droppa qualche frame ma in realtà vi garantisco che nella realtà il gioco va a 30 fps perfettamente fluidi gioco classico comunque funziona alla perfezione e anche la musica funziona alla grande ed è epica adesso proviamo un altro gioco 3d finto 3d che si chiama Nightmare 3d non è molto conosciuto però comunque è un gioco un gioco che appesantisce parecchio il 486 vediamo un po' come funziona su questo 486 SX2 come si può notare va alla grande engine molto simile a quello di Wolfenstein 3d stesso funzionamento di rendering chiamato rendering a scansione funziona alla grande funziona alla grande tra l'altro questo gioco di qua Nightmare 3d prima che installassi Dr.Dos laggava un pochettino quando raccoglievo oggetti adesso invece con Dr.Dos o Dr.Dos come lo si vuol chiamare ha smesso anche di fare questo piccolo lag quindi beh molto meglio ok un altro gioco che ovviamente non possiamo assolutamente tralasciare è Doom quindi vediamo un po' come si vede Doom leggermente più pesante di Nightmare 3d è comunque giocabile questo ve lo garantisco non è il massimo però è comunque giocabile scheda audio sound blaster musica funzionante perfettamente effetti sonori funzionanti perfettamente come si può vedere è giocabile non ha cali di fps drammatici certo non è molto stabile a livello di fps ogni tanto fa qualche piccolo scatto però tutto sommato è abbastanza giocabile oddio non sono più abituato a giocare agli fps con le frecce aria segreta è uno m1 però con il sound blaster senza W32 è un pochettino scarno sentite un po' non è meglio ah ah comunque sì ha il gioco è giocabilissimo comunque si ha il gioco è giocabilissimo ho provato anche ad installare ed avviare quake ma non sono riuscito a farlo partire perché vuole un processore point float una cosa del genere insomma un processore più potente un pentium come minimo e di conseguenza non è stato possibile avviarlo su questo computer quindi non potremmo vedere come si vedrebbe quake su questo 486sx2 anche se su youtube ho visto alcuni video di gente che è riuscita ad eseguire quake su dei 386 e dei 486dx2 non so per quale motivo su questo 486 quake non parta forse qualche problema di compatibilità con questo modello specifico sx2 rispetto al dx2 non lo so comunque duke nukem 3d riesce a partire a differenza di quake ma è ingiocabile ho fatto un video su youtube l'ho caricato come non elencato adesso qua vi faccio vedere qualche pezzo di questo video in cui ho fatto un piccolo gameplay cioè ho registrato un piccolo gameplay di duke nukem 3d su questo processore su questo computer ma siccome si può notare il gioco lagga in una maniera terribile ed è completamente ingiocabile quindi duke nukem 3d non è un gioco per niente giocabile su questo computer adesso vediamo qualche altro giochino un pochettino leggero come esempio kin kinsei è il mio preferito questi giochi così questi giochi 2d comunque vanno alla perfezione sia per quanto riguarda la musica gli effetti sonori sia anche per quanto riguarda il gioco in sé non hanno problemi grafici eh sono morto subito comunque sia funziona alla perfezione tutti questi giochi 2d quindi sia commander kin che bioman ace cosmo cosmic adventure crystal cave secret agent eccetera eccetera questi giochi di qua vanno tutti alla perfezione su questo computer inoltre non mi danno neanche il problema del glitch grafico che dosbox mi crea con commander kin 6 ovvero del gioco che si teletrasporta mentre si muove la visuale questo problema non si presenta su questo computer non so da cosa derivi quel problema penso che sia un problema derivato dai processori più potenti un altro gioco importantissimo che riesco ad eseguire alla perfezione soltanto su questo computer e anche sul 386 è jazz jack rabbit anche questo va alla grande sia per quanto riguarda la musica si sente meravigliosamente bene e anche per quanto riguarda il gioco in sé questa è la versione cd rom ovvero tutti gli episodi tranne holiday air non ho la patch 1.3 purtroppo mettiamo un episodio a caso tanto ormai li conosco tutti e vanno alla grande la scheda di cattura ripeto droppa qualche frame ma in realtà il gioco è perfetto velocissimo come giusto che sia e senza nessun scatto insomma uno dei giochi più belli della mia infanzia finalmente riesco a rigiocarli di nuovo senza i problemi di dos box anche il menu non lagga per niente posso fare questo ascolterei la musica di jazz jack rabbit per tutto il giorno io è stupendo eh già è meravigliosa bellissima è molto nostalgica oddio jazz jack rabbit che fine ha fatto l'epic ti ha abbandonato jazz vediamo adesso un altro classico 2d lemmings per testare il mouse vga lemmi ok avviamolo per pc ad alta performance perché no tanto è un 486 questo cosa può andare storto anche il mouse con il driver cute mouse funziona perfettamente ma io non ho voglia di salvare lemmings quindi chissà frega facciamo un bel botto perché si yeah lemmings e poi un'altra cosa importantissima windows 3.1 andiamo su windows 3.1 è un launcher che ho fatto io perché per qualsiasi motivo il comando di windows 3.1 che risiede nella cartella di windows non funziona nello richiamo da altre cartelle comunque sia da quando ho messo dr dos windows 3.1 funziona al primo tentativo sound blaster funziona alla perfezione e anche il sistema non da nessun problema non glascia mai abbiamo anche questa cartella qui con diverse diversa roba che riguarda dr dos penso mettiamo uno sfondo al desktop perché è troppo brutto visto in questo modo andiamo su main control panel desktop e mettiamogli posso caricare un'immagine? sì perfetto mettiamogli questo ok yeah windows 3.1 non avete idea di quanto tempo ci abbia passato io da piccolo negli anni 90 su questo programma programma perché considerarlo un sistema operativo effettivo è troppo direi che più un sottosistema di dos diciamo con la calcolatrice 666 per 6 diviso 2 98 l'anno in cui ho iniziato ad utilizzare qualunque pc già ok adesso chiudiamo windows e anche se lo chiudo e lo volessi avviare di nuovo non ho più il problema che avevo con ms dos 7.10 ovvero che avviandolo una volta dovevo riavviare il pc per farlo funzionare di nuovo adesso basta che scludo di nuovo win e il sistema funziona di nuovo dr dos ha risolto questo problema di compatibilità con windows 3.1 finalmente posso avviarlo utilizzarlo quando voglio quando mi pare e non ho più problemi ad avviarlo eh già è meraviglioso caldera dr dos 7.03 copyright 76 98 adesso come ultimo test cosa potrei fare come ultimo test come ultimo test penso che faccio un video veloce su blackstone un altro gioco dell'apogee anche questo un fps sempre del livello però di wolfenstein 3d non è pesante quanto doom o quanto due crimine 3d non sento la musica ecco perché risolto buildiamo tutto anche blackstone funziona alla perfezione sul 486 tranne qualche piccolo drop di fps quando raccogli un'arma o un oggetto da terra ma rispetto a dos box è è tutto un altro pianeta veramente e muori grassone grassoni verdi comunque per questo video sull'olivetti m4 434s è tutto ragazzi non ho più altro da mostrarvi potrei stare qui soltanto registrare tantissimi giochi dos ma più di questo non so cos'altro mostrarvi anche perché per windows 3.1 non ho praticamente nulla al momento ah sì per quanto riguarda il cd solitamente io avvio un driver che si chiama aspi cd tramite un comando batch che ho creato io stesso cd connect avvia appunto questo programma il lettore cd inizia a lampeggiare e poi dopo qualche istante lo rileva e funziona e riesco a utilizzare qualunque qualunque cd rom metto un cd rom ad esempio chiudo ho su di due punti dir ed eccoci qua abbiamo il nostro cd rom ah una cosa che non ho menzionato prima di cui non ho parlato è dell'lfn infatti anche drdos 7.03 come msdos 7.10 ha il supporto per l'lfn cos'è l'lfn l'lfn è il long file name ovvero sulla destra potete vedere un elenco di cartelle con più di 8 caratteri giochi.dos e giochi.win questo appunto implica che si possono avere cartelle e nomi di file più lunghi di 8 caratteri grazie appunto al supporto per lfn su dos 6.22 è possibile utilizzare questa cosa tramite un driver di terze parti chiamato 4dos mi pare se non erro 4dos una cosa simile mentre in drdos 7.03 e in msdos 7.10 che poi è un derivato del dos per windows 95 è già incorporato comunque sia drdos 7.03 è gratuito quindi non avrebbe senso utilizzare msdos 7.10 che è anche di dubbi origini vi consiglio nel caso vogliate farvi un pc dos vintage come questo di installarvi drdos o drdos 7.03 direttamente perché veramente è uno dei dos più belli che io abbia mai avuto e non ha nessun problema di compatibilità windows 3.1 funziona alla perfezione e qualunque gioco va va decentemente i rallentamenti sono dovuti al fatto che questo computer non ha una scheda grafica acceleratrice 3d come ad esempio una 3dfx o una ad esempio voodoo non ha una scheda grafica acceleratrice 3d e poi tutto è a carico del processore il processore poi è un 486sx2 che è già debole di suo con solo i 40 megabetti di ram quindi è di conseguenza è ovvio che ci sia un po' di di lag ma comunque questo non mi non mi interessa perché molti giochi leggeri vanno alla grande e per giochi più pesanti ho già quasi ultimato i lavori per il pc dos gli ultimate l'ultimate machine pc dos non so neanche come chiamarlo ancora questo questo pc dos però mi inventerò poi un nome strafigo perché è il pc dos più potente che abbia mai creato e va bene per quanto riguarda questo video sugli lavori vetti m44346 s non s s è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti e spero anche di ottenere una scheda di cattura decente rispetto a questa nel 6 video il più preso possibile perché per il dos non è certo l'ideale alla prossima ciao a tutti